Mi trovo a Sapri, sto per incontrare il sindaco dottor Andone Gentile con il quale vogliamo trarre un bilancio dei danni legati al forte Martembo che ha interessato un po' tutto il sud Italia, tutta la provincia di Salerno e in particolare il Cilento e il golfo di Policastro. Sono proprio davanti alla cassa comunale dove sono i volontari della protezione civile che stanno rimuovendo degli alberi che appunto sono caduti in causa di questo forte maltempo. Le violente raffiche di Tramontana stanno spazzando tutto il territorio comunale dalla giornata di ieri, noi siamo attivi per cercare di rimuovere in emergenza tutte le criticità, ovviamente numerosissimi gli alberi di alto fusto caduti, avevamo per fortuna avviato già un piano straordinario di potatura quindi tutta la parte del lungomare è rimasta illesa da questo, però molti alberi non così come i pini che sono soggetti a queste violente raffiche non hanno retto. Grandi danni anche al patrimonio pubblico e privato e adesso stiamo ancora intervenendo in emergenza perché il fenomeno ancora non si è attenuato. Abbiamo deciso di chiudere gli istituti scolastici domani per permettere le operazioni di controllo del territorio e di garantire la sicurezza pubblica. È chiuso già da ieri il locale cimitero, abbiamo interdetto l'accesso alle persone nei parchi pubblici e chiesto alla cittadinanza di uscire di casa il meno possibile. Da questa sera, già nelle prime ore di domani mattina, il fenomeno è dato in attenuazione però non possiamo lasciare nulla al caso. Grande impegno da parte della protezione civile e di altre associazioni di volontariato oltre che da parte del Comune. Sì, abbiamo contattato e attivato tutti i canali istituzionali, abbiamo attivato la provincia di Salerno per le infrastrutture di loro proprietà, l'ANAS e quanti hanno interesse sul territorio con dei propri beni per cercare di mettere in sicurezza e ripristinare lo Stato.